Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the dream in the house? Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi oggi i Fortbyte erano due Abbiamo visto poco fa il numero 30 ma andiamo a prendere il numero 6 Che si trova nascosto nella schermata di caricamento Il numero 2 della settimana 6 E siamo come vedete ragazzi a neo inclinata Ci mettiamo vicino alla base dell'orologio con l'ologramma E recuperiamo anche il Fortbyte numero 2 Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alle 17 in live Ciao! 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 Ciao!